ciao a tutti e benvenuti su lagging tv ragazzuoli siamo qui una challenge con anita come funziona sta challenge come vedete ci sono due bustine col una dalla mia parte e una dall'altra parte che è quella di anita come sapete nella bustina col c'è una card idolo quella card ci darà la squadra che dobbiamo trovare per fare i punti chi troverà più più figurine della squadra identica a quella della card vincerà ok allora iniziali da spacchettare se io trovo lo stesso idolo di anita farà lo scudetto perché dentro c'è anche quello scudetto quindi andiamo a vedere anita che idolo troverà vediamo è tutta nita butta sempre la carta in inquadratura mette l'acqua per favore c'è anche damiano sta facendo il tifo per te ecco la manina per lunga la manina allora trova non guardo non guardo metti da qui la carta della fiorentina che non conta niente quindi non mettiamo qui e lei trova l'idolo del cagliari ok ragazzuoli quindi anita deve trovare figurine del cagliari per fare i punti adesso tocca a me aprire la bustina gol ti è pronta proprio apriamo la bustina col mio così vediamo troviamo lo stemma della juventus che non conta logicamente e il napoli l'idolo del napoli quindi che significa che io devo trovare le figurine del napoli anita quelle del cagliari ok per fare punti iniziamo subito aprire il primo pacchetto di anita quello blu quello maggio ok facci vedere che figurine trovi gli allenatori di spezia e trapani poi se trovano ed in gioco anita trova ed in gioco forza roma dagli e poi trova tre giocatori dell'ascoli trova i licici dell'atalanta pescare pisa gli stemmi e tre giocatori del crudo adesso tocca a me aprire la mia bustina e trovo mancosu del lecce tre giocatori della juve stabbia gaillardini dell'inter tre giocatori dello spezia l'autobus della fiorentina ho trovato io il fortuna figurino della fiorentina non tu dell'orco del lecce vai anita apri l'altro pacchetto ricordiamo che anita deve trovare le figurine del cagliari allora trova martella del brescia trova da costa e ha trovato rasmussen della fiorentina sì ma devi trovare il cagliari per fare i punti ok non hai vinto questo è un punto trova taxitis no un altro giocatore della roma e spinazzola anita trova anche spinazzola e poi trova archivo verona adesso tocca a me aprire il mio secondo pacchetto e trovo radovano ic del genoa asamoa guglierme arana intanto comincia a aprire poi trovo destro del bologna verre e sema quindi niente 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 vediamo se niente trova qualche giocatore del cagliari per fare i punti no trova dell'utinese eccolo primo punto luca pellegrini del cagliari giocatore che era ex roma poi è stato acquistato dal dalla juventus di nuovo prestito al cagliari dove era anche l'anno scorso poi vesino dell'inter no questa non hai vinto ok poi che trovato petagna della spalla mi è cascata tre giocatori e crudone però non è il cai questa è la san benettese ok andiamo con l'altra bustina invece per me e trovo rosinone roma e samp tre giocatori di livorno non hai vinto lucic petagna e juve sabbia ok aspetta niente ha trovato questo questo non hai vinto poi ha trovato esposito dell'inter ha trovato spina del napoli e il sassuolo allora intanto apro io la mia seconda la mia penultima bustina e trovo cristiano ronaldo anita è portafortuna trovo cristiano ronaldo che però non conta per i punti poi gervinio lasagna non è vinto la supercoppa italiana poi la maglia della roma e 34 scudetti della serie c apriamo insieme l'ultima bustina l'ultima bustina per adesso anita vince 1 a 0 con luca pellegrini ecco il pareggio ecco il pareggio il pareggio di papà con milic del napoli io questo ho trovato anita trova buona avventura che poi ci manca adesso poi faremo anche il cielo mi manca tremolata poi io trovo donna rumma berisha sirincon quindi niente non hai vinto per quanto mi riguarda anita ha vinto però ha vinto una bustina ok perfetto poi troviamo siriku questa maglietta ok ghiglione e il peschiara ragazzuoli partita che è finita in parità questa challenge franita e papà 1 a 1 vi salutiamo ciao a tutti ci vediamo nel prossimo video ciao